Il nostro grande amico Aldo Siboni, un altro clarinetto che come gli ho detto a lui prima ha fatto la storia della musica folkloristica romagnola. Io ho detto una cosa, lui e Silvani sono gli ultimi grandi clarinetisti di un'altra epoca però hanno insegnato i giovani. Bra, è vero, è vero, ha questo modo di suonare pulito, bello, accattivante e caloroso. Grande, adesso arriva Aldo Siboni con una bellissima polca. Grazie a tutti. 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 Siboni. Grazie a tutti.